Biblia si muove, si muove per il suono, per la musica, per la notte! Pagazzine vestite da potente, anche a spinto è stato tasta, ma in giù non sono sempre perché sono belli, e nel resto non sono davanti per mano. Quegli errori si facciano due dei film, questi tradiscono dopo un'ora, quando viene fatto quello lì, diciamo solo col cuore in cuora. Pagazzine vestite da potente, anche se non com'è nello stesso, tu ti divertirai nella notte, un ritmo che ti serve nella notte, ti senta di volare nella notte, che parte, parte, parte che ti porta via lontano. Grazie a tutti! Grazie a tutti!